Durante la celebrazione della messa presso la parrocchia di San Nicola di Pannacoli, una frazione di Cessaniti in provincia di Vibo Valencia, il parroco Don Felice Palamara ha fatto una scoperta ghiacciante. Nelle ampolle dell'acqua e del vino, utilizzate per la comunione, era stata versata della candeggina. Il coraggioso parroco, affetto da asma e cardiopatia, si è accorto del tentativo di abbrinamento proprio mentre si apprestava a bere dal calice. Senza esitazione ha interrotto la celebrazione e ha immediatamente allertato le autorità competenti. Analisi successive hanno confermato la presenza di candeggina nelle ampolle. Don Felice, presente nella comunità di Pannacoli da ben dieci anni, ha escluso che l'atto possa essere stato compiuto da membri della sua parrocchia, con cui ha sempre mantenuto un rapporto di affetto reciproco. In risposta all'atto vile, la comunità ha espresso il suo pieno sostegno al parroco, sottolineando la determinazione nel non permettere che alcuno faccia del mare alla loro guida spirituale. Il tentativo di abbrinamento ha scosso profondamente la comunità locale, che ha manifestato la sua unità nel condannare questo gesto nel chiedere giustizia. Le indagini sono ovviamente in corso per individuare i responsabili di questo atto intollerabile e garantire che vengano presi i dovuti provvedimenti. Giusto per ricordare un precedente, qualche settimana fa al parroco era stata danneggiata l'autovettura. Anche lì c'era stata una reazione decisa, ma evidentemente non è servito a affermare che ha compiuto un simile gesto.